Tutto iniziò quel giorno, quel patetico giorno in cui montavo quegli inutili poni. Era da due mesi che lo montavo e mi aveva decisamente stancato. Si chiama Summer ed è un Welsh comp, per carità carino, bravo, iperattivo, piacevole, ma io avevo voglia di cambiare, di sperimentare cavalli o poni nuovi. Ma comunque ormai ero in sella Summer e non potevo più scendere fino alla fine della lezione in cui avrei chiesto se potevo montare un cavallo nuovo. In più volevo anche galoppare più frequentemente e iniziare a saltare almeno 30 centimetri. Chiedevo troppo? Comunque non dico che non mi piace l'istazione, è che non voglio rimanere pertanto il principiante. Io mi impegnavo all'assimo, ma con scarsi risultati. A proposito, mi chiamo Cassie e questa è la mia storia raccontata ai capitoli. Ho dieci anni e molto lavoro, oltre al pasto ho trotto e galoppo. Poi faccio maniere la terra ed esercizi per migliorare l'assetto. Questo è stato un breve video di presentazione, ma adesso vi mostrerò qualche breve clip della lezione di oggi. Ciao! 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 Alla fine della lezione sono scesa, l'abbiamo portato in lavaggio La mia istruttrice Sofia gli ha messo la coperta, prima l'ha distillato, l'ha portato nel recinto dove lui si è ambientato subito Io vi saluto e ricordo a tutti di lasciare un bel like e iscrivervi al canale dell'Aere12 Ciao e al prossimo video!